Termina 1-0 la gara valida per la 34esima giornata del campionato di Serie C, Girone C tra Virtus, Francavilla e Cavese. Una gara importantissima, padrone di casa adesso ad un passo dalla salvezza aritmetica, ospiti ad un passo ormai dalla Serie D. Veniamo alla partita, nel primo tempo parte meglio la Cavese, pericolosa al 22esimo su un'azione di calcio d'angolo efficace. Nella circostanza la respinta dell'estremo difensore di casa Costa. Al 26esimo prova a farsi vedere la Virtus, ma il cross di Nunzella non viene raccolto al centro dell'area. Gara tutto sommato piacevole con continui capovolgimenti di fronte. Al 32esimo di nuovo Cavese con Gerardi che, sfruttando un'incomprensione tra l'estremo difensore bianca-azurro e la difesa, ci prova in girata ma andando di poco fuori. Al 36esimo, gran giocata di Mastropietro per il Francavilla che, dopo essersi liberato dalla marcatura di Favasuli, viene atterrato dallo stesso numero 8 guadagnandosi il calcio di rigore. Alla battuta ci va Vasquez che però si fa ipnotizzare dal portiere della Cavese, Kucic. Resta 0-0 il risultato. Al 47esimo ci prova ancora Vasquez su cross di Giannotti, ma il numero uno della Cavese riesce a salvarsi con i piedi. E' l'ultima emozione di un primo tempo che finisce 0-0. La gara resta in abilico. Nella ripresa la Cavese resta in dieci uomini dopo appena nove minuti. Gerardi, già ammonito due minuti prima, riceve il secondo giallo per un fallo ai danni di un difensore della Francavilla. Al 56esimo, poi è Nunzella della Virtus a rendersi pericoloso concludendo da buona posizione, anche se il suo tentativo termina di poco sulla fondo. Al 69esimo si sblocca finalmente il match, proprio con Nunzella tra i più attivi della formazione di Colombo. Il giocatore bianco-azzurro, dopo aver ricevuto pala da Giannotti, incrocia sul secondo palo e batte il portiere ospite Virtus 1. Cavese 0-0. Gol pesantissimo. Nel finale la Cavese prova a reagire, ma senza effetto. La gara si conclude così. Con una Virtus in controllo e una Cavese in affanno complice anche l'inferiorità numerica. La Virtus Francavilla, grazie a questo successo, avanza a quota 37 in classifica. Adesso può addirittura sognare la zona play-off per la Cavese. Invece è notte fonda e la Serie D sembra ormai dietro l'angolo.